Il giorno, il giorno, il giorno, il giorno. Il giorno, il giorno, il giorno, il giorno. 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 si facciamo prima no ma i nostri sensori sono vernicissimi tanti italiani che magari non lo sanno che si può andare tranquillamente serenamente in sicurezza in crociera anche in questo periodo è anche un bel segnale di ottimismo cosa di cui abbiamo terribilmente bisogno canerie e sanità già dal 16 agosto